Musica Linea Comune, prima puntata del 2018, insomma innanzitutto vi auguriamo un buon anno e io come di consueto sono in compagnia della sindaca Cicilla Francese che sicuramente farà anche lei gli auguri. Sicuramente, altrimenti 18 mi piace perché è un numero positivo. Il 2000 diventa maggiore N insomma. E allora partiamo subito con gli argomenti importanti, si è parlato molto in questi giorni del nuovo PUC, quindi si sta preparando e si sta concertando per la realizzazione del PUC, l'ufficio di piano ormai è pronto, è arrivato anche il nuovo dirigente, insomma quali sono le novità? Ma le novità nel senso che realmente il dirigente è qui, finalmente ci abbiamo messo un po' di tempo ma dovevamo votare il bilancio consolidato e quindi ha preso servizio venerdì scorso. L'ingegnere Salerno, veramente il clima è ottimo, ha saputo creare già un buon clima negli uffici, ieri sono andata a farmi un giretto, molti sono entusiasti perché effettivamente abbiamo delle figure che sono veramente valide nell'ufficio tecnico, semplicemente hanno bisogno un po' di essere stimolati questi ragazzi e quindi noi pensiamo che ci sono tante cose da fare, si è messo già subito al lavoro l'ingegnere, lui è dirigente all'urbanistica, partirà ben presto la CUC, insomma il bando per selezionare colui, il professionista che farà il CUC a battipaglia e soprattutto metteremo in evidenza quali sono una figura che qualità... Insomma, portando i requisiti sarà la qualità della persona che dovrà redigere, insomma ci sono tante caratteristiche, sicuramente predigeremo la qualità e almeno una persona che abbia fatto dei CUC, città di 50.000 abitanti minimo o più, non piccoli, non piccoli paesini. C'è un ufficio di piano che avevamo già organizzato effettivamente e quindi che sarà da supporto a colui che verrà a redigere il bando. Il bando è già pronto? Deve essere pubblicato? Il bando deve essere dato alla CUC, abbiamo dato degli indirizzi e quindi in settimana, oggi è giovedì, penso che per fine settimana, inizio settimana prossima, daremo il via. Daremo il via, abbiamo veramente un... purtroppo c'è stata la vicenda dei notaris che ci ha un po' molto rallentato in verità, ma insomma i problemi personali per cui l'architetta ha dovuto, voglio dire, è ritornata su Salerno e quindi siamo stati... Abbiamo un attimino cercato con l'ufficio finanziario di trovare i fondi per assegnare direttamente, di non dare degli incarichi di collaborazione sotto soglia perché non avremmo... No, certo. Non avremmo, cioè io voglio che per Battipaglia ci sia veramente un professionista che ci lavori. Ma i tempi più o meno? Ma per il 2018, il fine 2018 deve essere... questa è una delle cose richieste perché noi pensiamo da qui a febbraio dovremmo aver individuato due, massimo tre mesi, insomma e quindi molto è stato già fatto nei vari anni per il preliminare, si tratta di continuare quel lavoro insomma e quindi tra le cose che noi chiediamo nel bando appunto il fatto è che debba essere il preliminare pronto per fine 2018, che sono i tempi altrimenti poi ci commissariano. Quindi stiamo veramente... Lavorando e velocizzando, insomma, per il 2018 avremo il nuovo... Voglio augurare all'ingegnere Salerno innanzitutto il benvenuto e il buon lavoro ma a tutto l'ufficio tecnico che veramente insomma sono ragazzi che stanno lavorando. In questo momento teniamo anche i due lavori dell'allargamento del bacino per il fiume Tusciano, per il rischio ideologico, oggi ho visto appunto la richiesta dei fondi ulteriori per continuare questi lavori. Ci sono in progetto subito anche da rivedere un attimino, da inserire le nostre scuole nella possibilità di fare progettazione per attirare dei fondi e vedo che con Salerno insomma c'è questo stimolo in più. Abbiamo già fatto due o tre riunioni preliminari, si è messo subito al lavoro ed è quello che ci voleva, un po' di linfa nuova e di entusiasmo. Ovviamente l'ingegnere Ancione è stato fondamentale e sarà fondamentale soprattutto in questa chiusura di carriera perché è quello che poi sta portando avanti il lavoro di più Europa e che continuerà sicuramente a seguirli. E allora cambiamo argomento e torniamo sulla problematica che ci ha afflitto negli ultimi mesi in maniera forte e parlo del compostaggio. La novità è questo consiglio comunale allargato, sono stati invitati tutti i sindaci, abbiamo qualche risposta? Allora non è che la novità, il nostro obiettivo è stato sempre quello, ne avevamo già una volta chiesto a Eboli e Eboli non aveva risposto e ora abbiamo allargato a tutti i sindaci della Piana. In verità la convocazione è stata fatta il 27, ci ha risposto solo Capaccio, in maniera positiva. Noi abbiamo dato come data il 16, il 16 gennaio, poi è chiaro che questa data, se chiama Eboli che è uno dei grossi comuni con noi interessati e ci dice che il 16 non è possibile, è possibile il 20, sposteremo la data. Stiamo aspettando soprattutto la risposta di Eboli, ma l'abbiamo inviata a Serri, Altavilla. Avevate dato una data, entro cui bisognava aderire, qual era il... No, non abbiamo dato in cui bisogna, però è normale che tu rispondi, tu puoi rispondere, io non so se arriva ai colleghi, abbiamo anche sollecitato, ma almeno uno risponde sì, no, sì, no. No, anche perché bisogna decidere dove farla, no? A seconda di quante persone sono. Certo, perché noi se siamo due, tre comuni lo facciamo qui nella nostra aula consigliata, se aderiscono in tanti comuni saremo lì al centro sociale perché c'è più spazio. Però questo era un obiettivo perché il tema è, l'argomento appunto è la gestione dei rifiuti nella Piana del Sele, ma noi pensiamo di, con questo consiglio comunale, di sottoscrivere un documento forte per la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino, forte da parte dei comuni della Piana. E quindi con questo documento forte ci ripresentiamo alla regione. Quindi io invito i comuni della Piana del Sele a non sottovalutare il problema, ma aderire e a fare insieme questo documento. Lo stiamo dando, abbiamo già iniziato una bozza, sicuramente. So che avete intenzione di invitare anche il sindaco di Casalduni, che ha una situazione molto simile alla nostra. Sì, vogliamo invitare anche il sindaco Iacovella di Casalduni perché la situazione è simile, loro hanno uno stir che non volevano, anche lì era la provincia che si era autocandidata e hanno ancora delle vecchie coballe anche loro lì davanti addirittura allo stir. Qualcuno è stato anche oggetto di... hanno dato fuoco a delle coballe, quindi hanno anche loro una situazione del genere e non vorrebbero questa trasformazione di stir in sito di compostaggio. Insomma è tutto un itinere, speriamo insomma bene. Io non vorrei che si arrivasse magari alle politiche perché vogliono magari recuperare voto e poi dopo... La cosa strana, la cosa strana è che a parte i 5 stella che stanno facendo una battaglia, la cosa strana è l'assenza totale dei partiti, davvero. Perché voglio dire, ci si può... io penso che c'è l'obbligo di ragionare. Ripeto, noi non siamo contro il sito questo... Il no compost non mi piace perché effettivamente sembra che tu non hai... Non hai... Idea di che cosa poi sia. Noi vogliamo un sito di compostaggio ma che sia unico e sia gestito dai sindaci della Piana del Sele. E quindi noi dobbiamo essere... ci dobbiamo determinare noi stessi sul territorio, non solo questo, ma quello che chiediamo è una rivisitazione della quantità di rifiuti che arriva nella Piana e soprattutto una uscita dedicata anche con una bretella che va dall'autostrada alla zona industriale e insomma rivedere anche la bonifica veramente reale delle discariche presenti. E allora invece per quanto riguarda la situazione politica, insomma abbiamo lasciato un quasi fine d'anno burrascoso, adesso sembra che ci sia un pochino di pace. Ma non è che c'è un periodo di pace, insomma c'è semplicemente che abbiamo iniziato questi contri interlocutori, soprattutto di confronto e di dialogo per vedere... La cosa importante è quello che dico, è giusto che si siedono al tavolo le forze politiche che hanno sostenuto questa amministrazione, però quello che bisogna aver chiari è se si vuole costruire, perché penso che... Il commissariare una città come Battivaglia sia una cosa disastrosa e voglio dire una cosa da assolutamente da non accettare, quindi ci vuole responsabilità nel governo del territorio, Noi vogliamo governare durante tutta la legislatura, lo dobbiamo a questa città che sta guadagnando terreno, che sta guadagnando spazio, autorevolezza nei tavoli che contano e lo abbiamo dimostrato con delle battaglie che abbiamo portato a termine e ricordo sempre quella, area di crisi complessa, la situazione delle frecce, la situazione del rilancio dell'economia, la fascia costiera, insomma Battivaglia spesso si trova al centro di argomenti di trattazione importante, ora c'è il discorso della metropolitana, la battaglia che non può fermarsi all'aeroporto ma deve arrivare fino alla piana, perché se noi parliamo di rilancio del territorio, di agricoltura, di esportazione non possiamo che poi... Quindi sono battaglie importantissime, ci vuole la presenza della politica, lo abbiamo visto per il sito di compostaggio, la politica assente ti mettono il sito di compostaggio, la politica assente ti mettono l'episano, attenzione, perché quello che a volte io mi chiedo e lo ripeto sempre perché è un concetto che forse sfugge, ma non è che a volte facciamo in modo che ci sia una crisi di governo perché qualcuno ha deciso altrove che siamo scomodi perché mettiamo dei puntini e dei paletti su questioni importanti sulla salvaguardia del territorio e qualcun altro aveva deciso che questo territorio doveva servire per altri fini, quindi questa cosa cari telespettatori e cari cittadini di Battipaglia e non solo, ragionate, riflettete, che cosa succede se manca una figura politica? Ti ci mettono di tutto di più in questo territorio, ci sta qualcun altro che decida. Quindi io chiedo alle forze politiche responsabilità nel governo del territorio e quindi se si vuole governare, se veramente si vuole governare, non si può non trovare una quadra perché non dobbiamo dimenticarci il nostro programma e il motivo per cui ci siamo candidati. Ci siamo candidati per cambiare questa città, per dare una guida, per dare uno slancio. Non vedete sicuramente la mattonella, la buca nella strada perché non abbiamo i soldi per poterlo fare, ricordo siamo in riequilibrio. Che vuol dire essere in riequilibrio? Vuol dire che io non posso fare mutui per opere pubbliche, per cui non posso, avete visto pure il discorso delle scuole. Non abbiamo soldi nelle casse, quindi dobbiamo arranciarci con i fondi, con tanta buona volontà e anche con l'aiuto tra la regione e tra gli organismi sovracomunali, sicuramente. E allora bisogna portare avanti questo programma, in parte noi abbiamo fatto, quando dico non abbiamo fatto niente, assolutamente non è vero, perché già il fatto che siamo stati l'unica amministrazione, l'unica in 25 anni, che ha messo mano veramente alla riorganizzazione della macchina amministrativa, tutti ci siamo riempiti la bocca in campagna elettorale che volevamo mettere mano, nessuno l'ha mai fatto. Noi abbiamo fatto, abbiamo attivato tre nuove figure dirigenziali che praticamente danno una linfa e dovrebbero risolvere dei problemi, lo stiamo vedendo anche con l'attivazione del SUAP che fino ad ora, ma non per mancanza di dirigente, perché effettivamente non puoi dare a un dirigente ad interim 50.000 cose da fare. Chiudiamo con una buona notizia, le scuole riapriranno serenamente. Le scuole riapriranno, abbiamo risolto i problemi, riaprono anche la scuola di Aversana, perché lì era un discorso non tanto di caldaia, ma abbiamo scoperto di tubi sotterranei, che erano 40 anni, che non venivano mai cambiati. Però è chiaro che bisogna, questo ci ha permesso, soprattutto con l'arrivo del nuovo dirigente, di fare un tavolo tecnico e di vedere tutte le cose che effettivamente non vanno da mettere a punto, perché dovrebbe partire anche, dovrebbe partire efficientamente energetico e poi successivamente partirà anche quello dell'illuminazione pubblica. E allora a questo punto noi diamo appuntamento alla prossima settimana, insomma abbiamo dato delle indicazioni, videomapping penso fine settimana, Videomapping stasera, stasera vi aspetto in piazza Mendola, c'è uno spettacolo ogni mezz'ora, che dura circa 10 minuti, bellissimo, straordinario, sulla facciata della Diamesis ci saranno delle immagini belle, natalizie, insomma è uno spettacolo da ieri sera purtroppo, è fiovuto e quindi... È vero, è vero, confermo, è molto bello. Allora alle 18.30, alle 19, 19.30 e ore 20, venite in piazza... Noi andiamo in onda alle 21 quindi non ce la facciamo, vuol dire... Comunque venite in piazza Madonnina, ma anche domani sera, stasera lo potete riprendere, lo fate vedere per domani. Stasera, domani sera, cercheremo di recuperare per la Befana quello di ieri sera. Perfetto, quindi avremo la possibilità di vedere. Quindi tutte e tre le sere vi aspettiamo in massa, poi non dite, non si fa niente, venite perché è straordinario, portate i bimbi perché è una cosa bellissima. E allora grazie per averci seguiti, appuntamento come sempre per la prossima settimana, interreremo proprio nel vivo di questo nuovo 2018. E allora grazie per averci seguito.